Vieni, vieni, vieni via con me, entra in questo onore buio, pieno di uomini, vieni, entra in tratti un bagno caldo, c'è un capatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo, that's wonderful, that's wonderful, that's wonderful, good luck my baby, that's wonderful, that's wonderful, that's wonderful, I dream of you. Please. Bene, stasera riprendiamo la puntata che abbiamo fatto sabato, l'altra settimana, che purtroppo è un male per motivi tecnici di problema che ho avuto io, quindi stasera facciamo quella puntata aggiungendo delle cose nuove che l'amico Massimo farà, Massimo tu mi senti bene? Sì, vai, vai. Ecco, benissimo, amico Massimo farà, però vi sarei grato di una cosa, vi vorrei pregare, possibilmente, di fare solo domande pertinenti all'argomento, perché io non posso rispondere a domande fuori, diciamo, fuori argomento, anche perché perderei tempo e non potrei nemmeno io seguire bene quello che dice Massimo. Pertanto vi prego di stare nel titolo di una discussione per far sì che possiamo tutti capire che cosa Massimo ci propone nel merito. Quindi vi prego di ascoltare bene e Massimo te la parola, prego. Grazie Valdo. Parlerò di due aspetti che possono essere, diciamo, lavorare insieme in sinergia per quello che riguarda il piano B, però l'oro può essere anche una cosa che potete indegare, potete fare i vostri investimenti, indipendentemente dal fatto che vi spostiate dall'Italia o meno. Ecco, vorrevo chiarire questo. Allora iniziamo la lettura, eh. Naturalmente potete lasciare commenti, quello che volete, io mi posso fermare in qualsiasi momento, perché tanto sono comunque chiacchierate, eh. Io non vi voglio vendere niente. Alcuni hanno lasciato nelle nodi dove ci vuol portare guerriere. Io non voglio portare nessuno da nessuna parte. Non vi voglio vendere oro, non vi voglio vendere... Io vi lavoro come una persona che ha fatto tutta una serie di ricerche e allora mette a disposizione quel poco che sa. Poi fate l'uso che volete, come sempre. Esattamente, esattamente. No, ma quello è lo scopo, certo. Allora, benissimo. Iniziamo a leggere. Casa Bianca, nuovo presidente, brutte notizie. Non amo fare previsioni, ma questa volta sono costretta a parlare chiaro. Prevedo una terribile crisi finanziaria in arrivo che sarà disastrosa e senza possibilità di recupero nel dopo. Purtroppo è quello che sta profilando, ma scusa se ti interrompo, ma stanno arrivando altre notizie ancora cattive perché temo che il giorno 20... Non so cosa che potrebbe capitare. Prego. Eh, magari ne parliamo brevemente alla fine, eh? Sì, certo. Allora, dopo la pandemia è in arrivo il crollo delle borse con il fallimento quasi totale delle piccole e medie aziende. C'è sempre stata una bolla speculativa con crisi finanziaria negli Stati Uniti ogni 10-15 anni, l'ultima è stata nel 2008, quindi sono passati 13 anni. Quando avverrà questa volta sarà molto peggio del 29. Quando avverrà? Non lo so. Credo prima di giugno, al più tardi entro l'anno. Cosa fare per proteggersi da un evento catastrofico? Sapete qual è l'unica e vera moneta esistente? L'unica moneta esistente da 6.000 anni e più è l'oro con argento e oggi altri metalli preziosi. Chi è che possiede l'oro? Il Vaticano, i banchieri, gli stati, meglio, corporazioni e solo una piccola percentuale di cittadini. E quanti di voi hanno investito in oro? In Italia meno del 10%. Perché così pochi? Adesso facciamo vedere la figura 1, Valdo. Prego. Ecco qui. Ecco. Questa qui è una famosa dichiarazione di Ferdinand Lips che ha scritto un famoso libro che ho quasi finito di leggere. Dice solo l'oro e il denaro, tutto il resto è credito. Cioè praticamente significa che quando noi si va in banca no e si prende del denaro, si prende il denaro poi si deve pagare il debito, ci sono gli interessi. Lui probabilmente vuole dire questo. Allora, la risposta è, continuo la lettura, la risposta è contenuta nel libro di Ferdinand Lips, un banchiere svizzero che disse Non è noto che il XIX secolo sia stato un periodo di prosperità e crescita economica senza inflazione. Le principali valute mondiali sono rimaste molto stabili per un lungo periodo. Questa stabilità è mancata nel XX e nel XXI secolo e aggiunge il gold standard del XIX secolo e è stato il più alto risultato monetario del mondo civilizzato. Leggendo il libro si evince che dopo la creazione della Fed, della Federal Reserve del 1914, la politica monetaria americana si indirizzò verso la moneta fiat. Per ragioni ovvie la Fed non stampa oro. Lips racconta tante cose nel libro, ma bisogna decodificarle. operazione scomoda da fare. Per esempio una fase intrigante. Nel libro è la seguente. Dal 1933 sino al 1975 è stato illegale detenere oro in America tranne che per uso commerciale o autorizzato. Mi sono chiesto che cosa vuol dire autorizzato. Per autorizzato si deve intendere l'oro detenuto nelle banche e nei cavò come quello dell'Auvesta di cui parlerò a breve. Insomma, dove tengono l'oro i ricchi. Questo mica è stato confiscato nel 1929. Non c'era nemmeno l'obbligo di dichiararlo. Fu rastrellato solo l'oro dei cittadini comuni. Avete capito questi furbacchioni? Questo è molto importante per l'investimento in oro di cui ti parlerò. Sarà sicuro al 100% e nessuno potrà toccarlo. Ma perché queste cose i consulenti finanziari non ve le dicono? Non le sanno perché non gliele insegnano o non gliele insegnano perché non le devono sapere? Eh, bella roba questa. Punto successivo. Investimenti in oro pro e contro. Facciamo l'esempio di cosa succede se crolla la borsa come è successo nel 2008. Caso A. Abbiamo 100 euro investiti in immobili, botte, cct, quotazionari, bitcoin, tutto quello che volete. Caso B. Abbiamo 100 euro investiti in oro, metalli preziosi, non diamanti, nelle nostre casi o depositati presso questo istituto o un altro istituto. Scegliete voi quello che volete. Cosa accade in caso di crisi grave? Accade che in poche ore il mercato perde il 50%. Quindi da 100 euro nel caso A il patrimonio crolla a 50 euro. Cosa accade nel caso B dell'oro? L'oro dopo una prima perdita iniziale recupera perché le persone cercano soluzioni sicure di investimento e scoprono l'oro. Scoprono tra virgolette, sempre stato lì. Infatti qualsiasi cosa accade alla fine della crisi l'oro avrà mantenuto il potere di acquisto, coperto l'inflazione e acquistato valore almeno di un 20-25%. probabilmente questa volta raddoppierà. Quindi in questo momento è assolutamente necessario riflettere sulla differenza concettuale tra soldi e oro perché, come detto, è solo una questione di settimane, forse di giorni ed è buon senso convertire almeno il 50% dell'asset patrimoniale o familiare nella vera riserva mondiale di Papa Francesco e dei Gesuiti e dei Rothschild, tanto per non fare nomi. in oro e metalli preziosi. Ci sono domande, commenti, c'è nessuno in linea? Al momento no, al momento no. Quando c'è, la bisogno io, prego. La soluzione? Io ce l'ho. Finalmente, dopo anni, sono riuscito a trovare un istituto in Germania che ora aprirà una filiale anche in Svizzera. Ce ne sono solo quattro al mondo che vende l'oro all'ingrosso, quindi a buon prezzo, con argento, platino, palladio. E funziona come una banca, pur essendo un istituto di credito. Non essendo un istituto di credito. Le licenze per operare al commercio sono completamente diverse. Lo sapevate? Se mi chiami, te lo spiego. Ma ritorniamo allo scenario della crisi apocalittica con il crollo di Wall Street del 50%, che ci si può stare se si considera la bolla finanziaria di oggi con il record raggiunto a 30.000 punti di Dow Jones quindi circa 15 giorni fa. Buffo che nessuno degli esperti si chieda come sia possibile. È tutto chiuso. Siamo tutti a casa, ma la borsa raggiunge il massimo. Una vera magia. Allora, vediamo un po'. Facciamo vedere la foto successiva, per cortesia. Subito. Aspetta che la ingrandisco un po'. La vedi? Prego. Ecco, bravo. Così siete bene, bravo. Allora, devo spendere proprio 30 secondi per farvi riflettere su questa cosa. Questa qui è la quotazione che vi dicevo. È andata su oltre 31.000 punti. Mai raggiunti nella storia. Come vedete, qui il picco massimo lo raggiunse negli anni 2000. Vi ricordate? In cui ci fu il sorplasse, no? di interno interno. Ecco, però niente a confronto. Poi c'è stato naturalmente, qui lo vedete, il crollo del 2008, un pochino anche naturalmente 2001, 2008 e poi vedete che quando si è ripreso un po' il mercato, ma da quando poi soprattutto è iniziata la crisi. Vedete come è andata su e come sta andando su? Sembra quasi una cosa manipolata. Via, non mi fate dire le cose. Ragionateci per quanto vuoi. Beh, infatti è così. Ecco, beh, questo mi fa piacere che tu l'abbia confermato a te. Andiamo avanti. Caso A. Ad un certo punto avrai bisogno di soldi e che fai? Vendi ciò che è già svalutato del 50% e chi lo compra? Sei costretta a svenderlo? Se hai un immobile che fai? Vendi le porte e le finestre? Come fai a mangiare? L'unica possibilità è quella di andare a chiedere un prestito in banca. Prestito di pochi euro che a causa della pandemia non sarai mai in grado di restituire questa volta perché l'economia è morta ed il trend sarà negativo per un lungo periodo, credo sino al 2025. Nel frattempo questi inizieranno la mietitura. E che mietitura con un raccolto mai visto prima? Caso B. Bene, quando invece hai l'oro disponibile in piccoli pezzi te lo puoi vendere quando necessario, almeno mangi, capite la differenza? Quando poi l'economia riprenderà avrai anche nello scenario peggiore mantenuto il capitale ed il potere di acquisto. mai nella storia l'oro ha perso di valore dopo crisi finanziarie e guerre. facciamo vedere adesso un po' di foto, vai la foto successiva per cortesia? Eccola, prego, è già lì, prego. Ecco, allora, parliamo di questa azienda qua. A Ovesta? Sì. Cos'è che è? Edelmetal AG, ma questa cosa è tedesca? Sì, è un'azienda tedesca e adesso aprirà una sede anche in Svizzera. AG sta per Axie Gesellschaft che significa società. Sì, esatto. Va bene, loro hanno ovviamente un agente in Italia e quindi parlate se siete interessati, vi metto in contatto con lui perché io non faccio praticamente niente. fa tutto lui, vi do il numero telefonico e io non ci incastro niente. Poi, quando naturalmente siete interessati, vedete, vi possono tenere l'oro se lo volete, ma io suggerisco per chi rimane in Italia di farsene mandare almeno il 50% perché giustamente la gente ha paura, no? Quindi lo vuol vedere l'oro, è giusto anche tenerlo in casa. È ovvio. Quindi potete acquistare lingotti, questi qui sulla sinistra, potete acquistare monete di diversa peso, diversa grammatura e poi qui ci sono naturalmente la combinazione delle due cose e questo vale sia per l'oro che per l'argento, che per il platino, che per il palladio. Andiamo alla figura successiva, vedete qui sono tutte le pezzature disponibili, questo è l'oro. Sì, ecco qua. Vedete? Fino al chilo. Questo è l'oro, ecco, poi qui c'è il platino, questo qui dovrebbe essere l'argento, scusate, credo, sì, argento. E poi vedete qui c'è anche il platino e il palladio che naturalmente, insomma, hanno lo stesso colore, sono argentati. Vedete? Interessante notare. Dimmi. L'oro bianco, in questo caso il platino, vale più dell'oro, giallo, no? Ovviamente. Sì, però l'oro bianco e l'oro bianco non è platino, eh? Esatto. Ok, ok. Certo, certo. Poi naturalmente c'è l'ultimo, ecco, facevo notare che il peso specifico, non lo sapevo neanche io questo, è diverso tra i metalli, eh? Sì, sì, infatti. È diverso, naturalmente, hanno un peso specifico diverso. Il palladio, soprattutto, e il platino, il palladio ha quasi raddoppiato rispetto allo scorso anno. E poi c'è da dire questo, che se tenete il metallo depositato presso la Uvesta, non pagate tasse. E sull'oro non pagate tasse comunque. Molto interessante questo, eh? Se invece ve lo fate spedire a casa, hanno una diversa tassazione. Quello poi dovete parlare con l'incaricato che vi spiega tutto, Valte si chiama. Allora, poi vi faccio vedere anche una nota così interessante. Non lo so, mi sembra di aver capito che non ci sono molte aziende di certificazione dell'oro. Loro naturalmente lavorano con la più importante, che si chiama Erao Eus, un nome abbastanza strano. Comunque questa è la certifica l'oro, come vedete, al 99.9%. 99%. Sì, sì. Allora, qui vi faccio vedere un altro grafico per farvi, insomma, vedere una cosa interessante. Vedete, qui c'è stato... Scusa, ingrandicci un po', per cortesia, se puoi. Certo, vedi? Ci siamo? Grazie. Sì, perfetto, va bene così, almeno seguete meglio anche da casa. Questo qui è praticamente un grafico degli ultimi dieci anni, dieci, dodici anni. Allora, vedete che qui, in questo punto qui, siamo praticamente nel 2008, il dollaro aveva un certo valore, e il gold aveva, l'oro aveva questo valore qui. Vedete, il valore dell'oro, questa è stata attenta a quello che vi dico, il valore dell'oro è in genere, in genere, eh, nel trend, inversamente proporzionale al dollaro. Quindi nel momento in cui ci sarà la crisi finanziaria, si ritorna a quello che vi dicevo prima, se il dollaro o l'euro perdono valore, perché perderanno valore, evidentemente, l'oro lo acquisterà. Vedete? Mi sono spiegato? Sì, sì. Ecco. Bene, vediamo un po' se vi faccio vedere un altro grafico, è praticamente lo stesso questo. Andiamo avanti, andiamo avanti nella lettura del nostro report. Allora, punto successivo, euro, moneta pubblica o privata? Questa è stata ripresa da una bella intervista che ha fatto Aldo Giannuli, che vi leggo. Vedete vicino, ah, scusatemi, c'ho da far vedere questa foto, così almeno la faccio vedere e ci si ragiona subito. La vedete? Sì, questa è la moneta 20 euro. Ecco, allora, lui dice, vedete vicino alla bandiera ci sono degli acronimi dell'Unione della Banca Centrale Europea nelle varie lingue, ma prima c'è un simbolo, è il simbolo del copyright. Scusate, ma voi... Mi grandire questo simbolo, se puoi, per cortesia, se puoi... Questa qui è la classica, è al massimo... E' la classica chic che si trova... Sì, sì, ho capito, ho capito. Non è niente di così speciale. Tanto a casa, quelli che vanno solo a vent'anni a casa, la vedono già lì. Comunque è importante vedere dov'è questo acronimo qua. Certo, lo possono guardare sulle proprie banca note. Sì, sì, da casa, certamente. Allora, lui dice, scusate, ma voi avete mai visto un francobollo, una marca da bollo o una banca nota col copyright? Il copyright è, per sua natura, un istituto di diritto privato. La moneta è, invece, per sua natura, un istituto di diritto pubblico. Tanto è vero che se tu vai al ristorante e ti rifiuti di pagare in euro, o meglio, tu vuoi pagare in euro, ma il ristoratore dice, no signore, gli euro non valgono più niente, mi paghi in dollari. In teoria il ristoratore fa un reato, perché la moneta, in quanto istituto di diritto pubblico, a corso forzoso la devi accettare. Ma qui noi siamo in presenza di una moneta che ha corso forzoso o no? Attenzione, noi chiamiamo Banca Centrale Europea quella che non è affatto una Banca Centrale Europea. È un accordo di natura privatistica fra banche centrali nazionali che, infatti, restano proprietarie della riserva aurea che appartiene a loro e non agli stati, ho aggiunto io. La riserva aurea non l'ha versata nessuno. Questa, in realtà, è equivalente ad una cambiale o a un qualsiasi tipo di pagamento, parla della banconota, tipo di pagamento privato, e funge da moneta perché la accettiamo come tale. Ma, ad esempio, se dovesse esserci una crisi tipo Giappone o Argentina, siete sicuri che funzionerebbe ancora? Perché, primo, non c'è scritto pagabile a vista al portatore, secondo, non c'è scritto la legge punisce i fabbricanti e le spacciatori di biglietti falsi, perché sarebbe insorto immediatamente un problema di carattere giuridico. Ecco perché la BCE è in realtà un accordo privato fra banche centrali, dove addirittura può entrare la Banca Centrale inglese che non adotta questa moneta nel suo paese. Ecco un esempio delle costruzioni giuridiche europee. Ora vi faccio un commento, l'ho aggiunto io e vi pongo questa domanda. Ora l'Inghilterra è uscita dall'euro, giusto? Sì. Ma è uscita anche dalla Banca Centrale europea? Eh, direi di no. Riflettete bene su quello che sta succedendo. Beh, direi di no, e infatti è qui che a Scalassino, come si dice, no? I giochini sono sempre occulti e pochissimi riescono a coprirli. Allora, adesso leggo un'altra parte che è stata, un'altra bella intervista che è stata fatta da Nando Ioppolo. Io la volta ho scritto, l'ho detto, l'ho detto, Ippolito, ma hanno scritto in 40 anni perché mi ero sbagliato. Eh beh, scusate, scusate, mi è stato un lapsus. Allora, il nostro amico Nando, deceduto pochi anni fa, in un video importantissimo caricato nel 2014 e che ad oggi ha 69, dico 69 visualizzazioni. Parlando dell'euro al minuto... 69? 69. Ma così poche? È un numero cabalistico. Ah! Se ne parla, hai capito? Eh, via, via. Basta così. Fa una battuta. 69. Ah, hai capito. È lì fisso, l'ho caricato tre o quattro volte. Appunto. Vabbè, lasciamo perdere. Allora, al minuto quattro dice, gli euro destinati all'Italia sono della serie S. Ve li faccio vedere la foto successiva, Ubaldo, per cortesia. Sì, prego, è tutto qua. Si vede. Bravo. Aspetta, ve la ingrandisco un po'. Vedete la S? Questi qui sono quelli destinati all'Italia. Vedete questo numero? Questo numero? 5, 4, 7, 3, 4, 4, 4, 4, 4. Controllate tutto quello che vi dico. Questo numero qui, ora mi sembra, faccia 43. Ora lo verifichiamo. Dice, destinati all'Italia sono della serie S, in quel momento, quando lui parla, nel 2007. E sono stampati in Thailandia per risparmiare. La banca centrale mette il numero di serie, ma non so che razza di algoritmo si siano inventato per fare quello che vi sto per dire. Per capire come questa carta I funziona, se voi sommate i numeri del preteso numero di serie di ogni banca nota, troverete che fanno 61, 52, 43, credo come in questo caso perché l'ho controllato, 34, cioè 7. Si fa la somma, 6 più 1, 7, 5 più 2, si fa sempre 7, che è il numero assegnato all'Italia. Per Germania e Francia il codice di controllo assegnato è rispettivamente 2, 5. Se fosse un numero sequenziale, la banca nota immediatamente precedente farebbe 6, quella seguente farebbe 8. E mi fermo qui. Dico io, commento. Questi euro sono quelli della prima serie che hanno sul retro il codice di controllo, uno in basso a sinistra, l'alto in alto a destra, con due scritte formate da una lettera alfabetica che indica la nazione emittente dell'eurozona, seguita da 11 numeri. La seconda serie, chiamata Europa, nella seconda serie vi sono sempre due scritte, una alfanumerica posta sul retro in alto a destra, composta da due lettere dell'alfabeto seguita da 10 numeri. In questo caso la prima lettera individua la nazione, la seconda dove sono stampati. Ma che razza di algoritmo hanno sviluppato la Banca Centrale Europea? Non è sequenziale e matematico, perché non sarà mica di tipo esoterico, iniziatico e cabalistico. Mi fermo qui, mi fermo qui, ricordando che un'osservazione attenta della simbologia presente, anche in questo caso, spiegherebbe quasi tutto. Adesso vi faccio vedere questa foto qui, vediamo di ingrandirla, vedete? La vedete, no? Sì, sì. Allora, questa vedete, la Germania... Ingrandisci un po', l'ho scritto per favore, un po' più grande se puoi, gentilmente. Ecco, va bene. Ecco, allora sulla sinistra qui abbiamo, vedete, abbiamo la Germania, ecco. Si prende qualsiasi banca nota stampata, a caso, qualsiasi banca nota, il totale fa sempre due. Si va in Francia, quelle delle banca note assegnate alla Francia, qualsiasi banca nota si vuole, il totale fa sempre cinque. Per l'Italia fa sempre sette. Mi piace il numero sette, però, eh? Mi piace. Andiamo avanti. Un'altra cosa che ho aggiunto io, la transustanziazione dell'oro. Magari qualcuno se la ricorda, perché ne abbiamo già parlato. Ricordate, anzi, possiamo anche far vedere l'immagine, così magari qualcuno se la ricorda di più. Ricordate questa immagine qui, no? L'abbiamo vista... Ora vi leggo. Ricordate cosa vi ho letto a proposito della transustanziazione dell'oro? A pagina 12 delle Tre Corone, volume 1, parlando delle bolle papali, scrivevo La bolla Sublimis Deus, del 1537, fu emessa da Paolo III, nato Alessandro Farnese, con la creazione del Terzo Testamento Trust, il papato attraverso il principio della transustanziazione, trasforma le anime in oro. Con questa bolla si assicurò il controllo delle anime. Quindi, per il Vaticano, la magia consiste nella transustanziazione in oro delle povere anime dei cristiani. Per le banche centrali, la magia consiste nella transustanziazione in oro per gli interessi che le povere anime dei cristiani pagano sulla moneta. E poi qualcuno mi ha scritto che i maghi non esistono più. A coloro che hanno fatto questo commento, un paio di persone, immagino ragazzi giovani, suggerisco buonariamente di commentare meno e documentarsi di più. Un suggerimento, anziché commentare cose più grandi di voi, ragazzi, fate domande. Domande giuste ci direbbe il Dottor Day, magari leggendo il volume 3 in uscita, dove nel capitolo 7 della serie dedicata al Georgia Geiston, a pagina 72, parlando dei gradi dei rose a croce, si legge Il terzo ordine equivale alla gran loggia guidata del mago supremo, un mago sostituto anziano, sono un tre naturalmente, e un mago sostituto junior. I membri del secondo ordine che hanno prestato servizio alla società e sono stati selezionati dal mago supremo per tale avanzamento possono ricevere il grado ottavo di magister e il grado nono di magus, ovvero mago. Secondo i due ricercatori americani, Michael Hoffman e il suo mentore James Shelby Doan, da cui ho abbondantemente attinto a completamento della terza parte del capitolo 6 su JFK, l'obiettivo primario occulto degli alchimisti medievali o maghi e gli iniziati delle società segrete continua ancora oggi nella loro tradizione e non è, scusate, ho letto male, scusate, sì, allora, l'obiettivo primario occulto degli alchimisti medievali o maghi e gli iniziati delle società segrete continua oggi nella loro tradizione e non è la trasmutazione del metallo, ma la trasformazione dell'umanità. La ricerca dell'oro era solo una copertura per un vasto programma sociale che includeva l'abolizione della monarchia, l'annientamento della chiesa e la ricostruzione del mondo secondo non la legge naturale, ma la volontà dell'uomo. Allora, in conclusione di questa prima parte, cosa possiamo dire? Possiamo dire che la carta moneta, cioè la moneta normale, quella che si dice tutti i giorni, perde costantemente valore a causa anche dell'inflazione. Poi ora ci sono queste turbolenze naturalmente finanziarie e potremmo avere problemi se abbiamo solo questa carta qui, dopo magari mi fate dire cose strane. L'oro mantiene il suo valore e questo abbiamo visto, abbiamo spiegato perché l'oro guadagna in tempi difficili. Domande? No. Fa piacere, capiscono tutto, allora... Ma speriamo. Una passata. Allora, a questo punto vi faccio vedere una cosa mai famosa, girata su Facebook, su internet. Questa qui, questa dichiarazione che dice è molto più facile ingannare la gente che convincerla che è stata ingannata. Mark Twain era di una saggezza esemplare. Sì. Da lui arrivano i più bei pensieri. Per esempio, uno come questo, abbastanza popolare, direi almeno per chi sa certe cose, che dice nel paradiso ci sarà miglior clima, ma nell'inferno ci sono migliori compagnie. Cioè, per dirtene uno... Sì, 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 chiaro. Guarda, è veramente eccezionale questo Mark Twain. Veramente un autore da scoprire per molte da leggere, sicuramente perché c'è tanto da imparare. Prego. Certo. No, devo dire che è una constatazione, non me ne voglia nessuno. Però la maggior parte di queste dichiarazioni che circolano e le persone postano su internet devono sapere queste persone qui, lo devono sapere. Io non le lo dico perché sono... Ti devo dire una cosa. Dimmi. Questa dichiarazione qua che dice è molto più facile ingannare la gente che convincerela che è stata ingannata. Ti dico che è di un'attualità incredibile perché io stesso spesso sono capitati in certe situazioni in cui facciamo capire guarda, qui è così, no, 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 ma tu cosa dici, cosa dici, cosa dici, cosa dici, tu sei qui, tu sei là e poi alla fine è arrivata la pregatura. Nel senso che la gente è più facile da ingannare che convincere che è stata ingannata. Purtroppo è la verità. È per questo che io ho chiamato il mio sito a mente aperta. Se voi usate questo approccio qui, cominciate a aprire le finestre, respirare aerea fresca, dovete mettere in discussione tutto. Tutto, tutto, qualsiasi cosa chiedete perché. Assolutamente. Fate domande. Chiedete perché. Pretendete spiegazioni logiche. Dicevo di coloro che postano queste belle dichiarazioni, no, dei vari autori, ce ne sono tanti. Dovete sapere che nel 99,9% sono tutte dichiarazioni di iniziati. Questo lo dico come nota di cronaca perché non ci credevo neanch'io. Sono andato lì piano piano a spulciarle e mi sono reso conto che hanno preso proprio il fiore. Ma da sempre, da sempre, anche breve nota, lo devo fare. Ecco, una breve nota. Vediamo un po' se riusciamo a far vedere. Riusciamo a far vedere questo? Ecco, questo qui è il Georgia Geist, lo vedi? Ecco, questo qui ho finito. Nella parte finale ho anche aggiunto quello che vi ho appena letto, cioè c'è un po' la storia dei Rosa Croce, perché quel monumento lì l'hanno voluto loro, l'hanno creato loro, l'hanno voluto loro, su questo non c'è ombra di dubbio. E poi questa qui è Elisabetta II, è il capitolo ottavo. Elisabetta II e sua legittimità al trono. Qua, oltre al video nostro, ti ricordi che abbiamo fatto su quell'errore lessicale che commise durante l'incoronazione, ho aggiunto anche un bellissimo articolo che ho trovato su internet, fatto da un signore che aggiunge anche altre cose. Ora qui mi arriva una telefonata e qui non ci incazza niente. Ok, benissimo. Allora. Ok. Qui, scusatemi. Naturalmente l'offerta sui due libri continua. continua, eh? Cioè, se avete bisogno di libri... Ma scaricateveli gratis! Scaricateveli gratis, ve li mettete lì, vi cominciate a leggerli, il terzo è quasi pronto. Fate una cosa sicuramente utile. Via. Cambiamo pagina. E parliamo del piano B viene via con me. Naturalmente mi hanno chiamato in tanti. Io, ragazzi, cerco di dare la consulenza a tutti, ma il tempo purtroppo è tiranno, come si sa. E quindi, se uno compra il libro e allora va bene, compra il libro, io la consulenza gliela do gratis. No, perché a un certo punto mi fa piacere se compra il libro. Però, per chi invece mi chiama e mi tiene al telefono minuti e minuti, purtroppo, devo dire che non ce la faccio più. Non ce la faccio perché ho da fare tante altre cose. Allora, riterrei giusto che pagassero, facessero una piccola donazione, pagassero una piccola fee. È una piccola fee. Io ho chiesto 150 euro. Poi, dopodiché, io sto, ci sto anche due o tre ore a parlare con loro. Non ci sono problemi. Ecco, questo veramente, lo faccio, io non lo faccio per far soldi, questa cosa qui. Tanto, io, 99 su 100, a meno che cercherò di spostarmi in quel posto lì, che sapete, che non menzionerò, però lo sapete. È un posto in Africa, è una nazione, poi vediamo anche delle foto, in crescita. E quindi, secondo la mia ricerca, che comunque ci ho dedicato un bel po' di tempo, è la nazione che dà più garanzia, almeno nel breve periodo. Però bisogna vivere giorno per giorno, ma soprattutto bisogna agire. Bisogna agire, ognuno deve fare il proprio. Non state ascoltare quello che vi dico io. Fate le vostre ricerche. Poi, se alla fine avete dei dubbi, avete delle preoccupazioni, non riuscite a arrivare niente, si parla del Brasile, si parla della Bielorussia. Io ho gente dal Brasile che vuol venire con me là. Cioè, Brasile non lo so, io per carità di Dio, ognuno può... Ma da come mi risulta, da chi sta laggiù, devo dire che Brasile la sua azione non è affatto allegra, insomma. No, no, assolutamente. Per niente. Assolutamente. Fa fare, fa fare. È mondo occidentale. È mondo occidentale. È sempre mondo occidentale. Non te ne passi illusamente. La Bielorussia è l'Eno Europa. Cioè, sinceramente, poi questo presidente della Bielorussia che si è fatto questa uscita contro il Fondo Monetario Internazionale, ma anche se sono cose vere, non si possono dire in pubblico. Un politico responsabile mette anche a rischio la nazione, non le dovrebbe dire certe cose in quella maniera. In effetti li hanno fatto nel primavere. Ecco, ma è per forza. Ora, mi dispiace dire queste cose qui, magari è ancora una brava persona. Dico una cosa. Onore del Vero, diciamo che sarebbe stato più giusto che tanti capi di Stato avessero detto ciò che ha detto lui. Ma l'ha detto soltanto lui, perché neanche Putin l'ha detto. Ma lui sì. Ma non lo possono dire. Ma sono tutti sotto giuramento. Sono tutti sotto giuramento. Non le possono dire queste certe cose. Notate che anche la definizione, vi invito a ragionare su questa cosa, anche la stessa definizione nuovo ordine mondiale, che tutti conoscono se fanno politica a un certo livello, la pronunciano soltanto particolari persone in particolari circostanze. L'avete notato questo? Sì, sì, è vero. Perché? Perché non sono autorizzati. Anche loro hanno un codice. Si devono attenere al codice, al comportamento. Perché fanno parte comunque sia di un ordine. Se non addirittura di un culto. Mi fate di tante cose. Allora, la buona notizia è che Bruno, Bruno P, ha vinto il libro. La volta scorsa ha indovinato. Dove era quella via? Avevo chiesto, ma poi ha fatto una domanda. Oggi avviene faccio un'altra domanda. La mia domanda, il quesito di oggi è vi invito a indovinare chi ha detto quello che vi leggo in questo momento. Vi sono, quest'autore ha detto, vi sono due storie. La storia ufficiale mentoniera che ci viene insegnata la storia ad usum delfini si di uso delfini vuol dire una cosa che si adatta e che si è adattata e manipolata per interessi di parte. C'è una storia un po' è così e la storia segreta dove si trovano le vere cause degli avvenimenti. una storia vergognosa. Questo è un autore famosissimo. Allora vi ho già detto del discorso dei libri, di scaricarli allora vediamo un pochino vediamo un pochino Allora come ho detto prima io non voglio portare nessuno da nessuna parte quello che ho detto nell'intervista famosa insomma ora ne farò un'altra con Morris Sun credo che sia per il 26 è che ognuno dovrebbe avere un piano B Esatto in effetti c'è una domanda per te dimmi un signore qui l'amico come si chiama Parci ParciFest questo c'è il nickname dice ma perché non dice il nome del paese africano ecco quindi allora queste informazioni sono dovete capire che queste sono informazioni riservate che io posso posso dire cose sono riservate uno è interessato quindi scrivono allora questo messaggio andiamo a capirci qui ci sono segreti questo messaggio è indirizzato a coloro che non si vogliono fare lo stracchino punto capito cioè a tutti coloro che hanno una grande motivazione in questo senso chi è indeciso chi è scontento non lo posso aiutare io voglio vedere determinazione in questa cosa qui se no io non mi posso prendere capito poi dopo la gente indecisa comincia quindi non ci sono nessun segreto voglio essere chiaro quindi coloro che mi possono contattare sono vi prego coloro che sono soltanto determinati a non volere lo stracchino e quindi in questo caso purtroppo bisogna che vadano da un'altra parte perché qui tanto prima o poi un bel un bel formaggino ve lo fanno ve lo dovete mangiare allora vedo che con grande piacere Francesco Frongia ha indovinato bravo Francesco hai vinto il libro se lo vuoi se no ti vendo una bambolina non so cosa dare non so se l'hai già scaricato allora andiamo avanti via su allora vi faccio vedere questa foto qui tanto si fa per chiacchierare vi do delle informazioni generali così vi dico le cose un po' io naturalmente essendomi espostato in America cinque anni fa ci sono già passato no da tutta questa tiritera tutto quello che serve per lasciare il paese andare in un altro paese qui vedete si legge no Ubaldo un attimo ecco qua ecco qui lo introduco lo introduco molto velocemente per feed di partecipazione che nel mio caso naturalmente è ridicola considerando quello che succede appunto con gli avvocati cioè naturalmente avete da pagare un avvocato no se vi spostate in un altro paese avete comunque da pagare qualcuno ecco per avere per avere un visto normale anche un visto normale che qualcuno che vi organizza naturalmente ci vuole soldi per organizzare io ho già là delle persone che mi organizzano e devo pagare e quindi la feed di partecipazione funziona in questa maniera io vi fornisco tutta la consulenza necessaria per spostarvi con una certa tranquillità quindi vi dico il visto che dovete prendere richiedere che dovete acquistare voi direttamente dal sito di questa nazione e poi come dovete potete rinnovarlo e poi se avete bisogno di un appartamento vi trovo l'appartamento avete bisogno di poi quando siete lì di un avvocato di qualcosa e quell'altro io vi posso una piccola azienda di consulenza di servizi diciamo così va bene il poi poi collegato a questa operazione naturalmente io richiedo delle garanzie perché io non posso portarmi con me persone che non conosco persone che magari non hanno grandi risorse economiche se poi succede qualche cosa che si fa vengono a cercare me e devo aiutarli io prendermi in carico magari qualcuno che ha avuto un problema grave di salute io non mi voglio trovare in queste condizioni qui la FIC che chiedo dura un anno dopo un anno ognuno a casa propria cioè si può rimanere in contatto evidentemente però finisce tutte le mie obbligazioni finiscono come nella proposta dico chiaramente poi naturalmente ci sarà il discorso del volo quindi bisogna vedere quando si potrà partire cioè questa situazione con i voli apertura chiusura una cosa e quell'altra vi fornisco la consulenza per i visti come ho detto poi c'è un deposito da pagare per l'appartamento perché se volete l'appartamento c'è da pagare praticamente sette mensilità in anticipo una va all'agenzia e le sei vanno praticamente al proprietario ho selezionato una zona in cui c'è praticamente la polizia quindi è super sicura poi vi posso fornire la consulenza finanziaria legale tutte le cose di cui avete bisogno trovarvi le scuole per i ragazzi eccetera eccetera ecco questo grosso modo è questo qui ma il punto centrale di tutto come vi dicevo è che queste persone per poter partecipare dovranno avere una certa cifra che intendiamoci non sono 10.000 euro eh ragazzi sono di più eh ci vuole una certa cifra vi posso dire si parte ve lo dico così almeno non si perde tempo si parte da con un investimento diciamo di circa 50.000 euro che voi non li date a me voi dovete investire in oro con un doppio obiettivo primo che avete la possibilità di partecipare al piano B perché senza garanzia e non posso prendere nessuno secondo che fate probabilmente in questo momento il migliore investimento che potete fare in vita vostra hai domande Baldo? no eh probabilmente no sto vedendo se qualcuno ha domande a fare ma vabbè eh non ci sono sono ancora detto prima e quindi andiamo avanti allora l'importante l'importante che abbiano adesso idee chiare su ciò che devono fare bravo per intraprendere questa nuova diciamo così vita perché appunto qui sappiamo che cosa potrebbe succedere anzi aspettiamo di no però 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 prego allora l'obiettivo è quello di mettere insieme un gruppo di persone possono essere dieci dodici famiglie diciamo così non un numero esagerato e di fare gruppo cioè noi si è capito se hanno un paese straniero bisogna bisogna avere avuto anche un po' di esperienza io non ho nessun problema per esempio a parlare con ragazzi che mi chiamano ieri ho parlato con Leonardo in Portogallo e poi mi sembra ho parlato con Marco in Brasile mi chiamano un pochino a tutte le parti loro che sono già all'estero capiscono al volo il che devono fare chi invece non è mai uscito dall'Italia bisogna che abbia anche un po' la fiducia in questa cosa qui perché bisogna bisogna a un certo punto io amo amo instaurare i miei rapporti di collaborazione su tre punti sostanziali fiducia rispetto e diciamo coerenza nel senso si decide di fare una cosa si fa in quella maniera lì ecco allora se ci sono queste 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 tre componenti è tutto più facile quindi andiamo in un paese che non conosciamo soprattutto all'inizio dobbiamo essere intelligenti a sufficienza no di fare gruppo e darci una mano anziché fare come come tanti italiani all'estero che è meglio perderli che trovarli lo dico chiaro eh io ho gente gente che non si comporta bene va fa quello che vuole però se mi rendo conto che non è una persona per bene io non lo posso aiutare assolutamente no naturalmente la lettura dei miei libri in questo senso che potete scaricare gratis naturalmente aiuta perché io tante volte per gli approfondimenti che ho fatto magari ho una veduta un attimino diversa da quello che può avere un altro esperto da un altro cioè a me non mi interessa niente non ho penso che cioè le proprie analisi però ecco naturalmente leggendo documentandosi un pochino di più ehm fanno una cosa positiva ecco come posso dire adesso qui ti ricordi Obade siamo arrivati quasi alla fine a che minuto siamo? 50 eh abbiamo finito presto allora ti ricordi no che ci sono questi due gruppi i medici e gli avvocati da una parte ti ricordi no e 5 stelle comunisti dall'altra allora la prima domanda è sei in cima alla torre di Pisa sì sì e devi buttare giù o un medico o un avvocato tutti giù dalla torre ecco io sarei propenso per un certo avvocato l'avvocato vabbè ma questo decidi te eh scegli te certo io sono aperto perché io io devo essere coerente con la mia importazione no se sono obbligato sicuramente un avvocato ma è un medico poi magari rischierei di buttare l'avvocato buono e tenermi un medico cattivo ma infatti volevo dire proprio quello volevo dire volevo dire che naturalmente questo qui è un gioco no? che facciamo così sì sì perché non bisogna generalizzare troppo no 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 però se i medici si dessero una svegliata sarebbe meglio anche gli avvocati ecco diciamo che se certi medici tutti insieme capissero l'onestà di certe cose e si unissero a quei medici coraggiosi che sono adesso che denunciano quello che sta accadendo invece molti vigliacamente si ritirano fanno finti tonti no? cioè fanno un po' come si chiama gli sburioni della situazione è ovvio che li buttare giù tutti questi medici ovviamente perché è veramente scandaloso sentire sentire dei medici che attacchino dei colleghi che hanno un certo curriculum tutto rispetto che sono ricercatori seri insomma gente che veramente sa di cosa parla e vengono attaccati dai semi analfabeti oppure da professionisti che di medico non hanno nulla cioè il famoso usiamo così decalogo di usiamo di quel medico greco così chiama ipocrate ipocrate bravo proprio non l'hanno mai letto lo ignorano e questa è una vergogna è una vergogna da far vomitare ipocrate anche se è morto 2500 anni fa quando è stato lui voglio dire è una cosa vergognosa cosa sta accadendo e quindi certi medici hanno preso la P ma sì è proprio così caro Massimo è una vergogna perché vogliono difendere io per esempio un medico questo medico abruzzese come si chiama dottor che coraggiosamente ha detto le cose concrete viene attaccato un medico rispettabilissimo all'improvviso diventa stupido secondo un certo signore ma questo capisce che è inammissibile è inammissibile ma basta vedersi Ubaldo basta vedersi anche l'ultimo video che abbiamo fatto sul 91 di Voc ma sì 91 di Voc leggi lo hai scritto tutto lì santo Dio se uno non lo vuole capire non lo capisce basta ma è così andiamo avanti andiamo avanti sei in cima alla torre c'hai 5 stelle comunisti che butti di sotto i 5 stelle guarda veramente non le digerisco per carità non è che digerisco comunisti ma 5 stelle guarda io come ti ho detto l'altra volta io preferisco sempre i comunisti quelli convinti quelli tosti mi piacciono quelli lì ma almeno almeno esatto almeno loro ci hanno creduto fino a un certo punto non so se ci credano ancora magari ora si saranno anche svegliati a questo punto forse non ci crederanno più però almeno loro per tanti anni ci hanno creduto hanno creduto in qualcosa come quelli di destra no quelli di destra hanno creduto nel 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 movimento del diciamo il movimento nazionale o comunque di destra che sono comunque entrambi rispettabili perché hanno creduto in qualcosa sì senza dubbio andiamo avanti abbiamo finito ora però voglio finire con due note su questo piccolo studio che io ho fatto su questa nazione vedete c'ha perché io naturalmente quando fai una valutazione devi fare deve valutare l'aspetto economico pubblichiamo il documento scusa devi vedere il trend commerciale no ingrandisci un pochettino per cortesia almeno le scritture che con un po' di più se puoi vabbè è al massimo queste colonnine queste colonnine qui ve le dico io queste colonnine c'è scritto 2014 questa nazione nel 2014 aveva un debito pubblico del 32.62% debito pubblico 32.62% e nel 2020 del 38.19% nel 2024 sarà il 40.04% naturalmente questo qui è un parametro molto buono come valore di base no? a quanto è il debito pubblico italiano? è tre volte questo qui ecco foto successiva l'abbiamo già anche un po' vista questa qui vediamo adesso vi faccio vedere un po' di foto di quel posto lì sì ecco lì almeno ecco bravo si comincia si comincia a sognare a vedere quanto meno il posto è reale e concreto e che tu lo faccia vedere è bello sicuramente poi ti scriveranno per dettagli questa qui è credo è da aver capito una spiaggettina proprio vicino nella zona che ho selezionato io ecco questa qui è un appartamento sempre con vista mare nella zona che è una zona residenziale come ho detto in questa capitale che c'ha la vista mare questa qui è un'altra foto per far vedere un attimino vedete è tutta è una zona residenziale quindi ecco e poi qui naturalmente faccio una sorpresa agli amici vi faccio vedere un'altra foto che è sempre del posto vedete vedete ecco poi vi faccio vedere un'altra foto che è questa qui vedete qui c'è c'è un famoso monte però non vi dico cos'è sono zebre naturalmente poi l'ultima foto vi faccio vedere questa perché è magnifica perché in questa zona qui quando arriveremo a un certo punto sono già in contatto con un'azienda che organizza safari e naturalmente andiamo safari tutti a fare una bella gita a vedere gli elefanti vedete la vedete vedo vedo quindi sarà anche io vorrei portare persone che hanno anche una certa mentalità no che vogliono andare lì per per godersi la vita dopo mesi e mesi e mesi di prigione a a in casa no cioè c'è anche questo aspetto da considerare eh cioè che uno voglio vedere voglio vedere niente uno fa quello che vuole però ecco suggerirei di partire con un certo motivazione con un certo desiderio anche di godersi la vita per quello che è ho finito ho concluso se avete domande mi fermo qui no beh domande no sono curioso di sapere che posto è io dico scrivete a massimo e voi gli diranno mi potete scrivere mm guerrieri e chiocciola e chiocciola e chiocciola e metti il metti anche il telefono il telefono allora facciamo una parentesi velocissima prego per dirvi di questo discorso che adesso whatsapp è venuto fuori che ha intenzione di non è più sicuro perché daranno tutte le ragazzi ragazzi sono tutte puttanate la NSA controlla tutto quello che facciamo indipendentemente dal 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 telefono dalla linea dal operatore ho capito dalla compagnia che utilizzate ma Sode in questo ce l'ha detto 12 anni fa c'è un bel documentario su Netflix scaricatelo c'è la c'è la storia ora mi ricordo mi hai sentito c'è la sua storia in cui praticamente già 10 anni fa quando venne fuori questo scandalo se vi ricordate forse un po' meno 8 anni fa lui credo che sia in Russia in questo momento denunciò questa cosa quindi non è inutile passare da da Whatsapp a Telegram o da Telegram a Simple queste qui sapete cosa sono queste qui sono tutte notizie così dovete ragionare su queste cose e ve lo dico perché lo so queste cose se no non le direi di questi gruppi che hanno investito in Signal in Telegraph in shares in quote azionarie e naturalmente hanno interesse a che la quota vada su la valutazione della share negli stocks hanno già raddoppiato capito hanno già raddoppiato queste cose qui quindi è inutile adesso scappare da Whatsapp tanto se non facciamo mica niente di illegale se ci vogliono controllare ci controllano lo stesso ci controllano in qualsiasi momento loro sanno se vogliono che io sono qui seduto e che parlo con voi anche se non parlassi con voi sanno bene che sono qui nel mio appartamento quando col telefono mi muovo in macchina sanno bene dove vado in macchina sanno tutto esatto esatto è inutile stare qui mi fanno ridere queste cose io ho un'esperienza nel merito appunto perché dei signori mi sono dovuto trovare senza essere messi da casa mia ma usando tecnologie sono dovuto a casa mia bussare alle 5 del mattino 5 e mezza poi sono scusati per l'errore però intanto avevano un nome che era come il mio e mi hanno beccato sono dovuto a casa mia per dirti solo questo ma chi erano scusa chi erano la guardia di finanza ah alle 5 di mattina alle 5 e mezza sì 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 sono dovuto trovarmi così per una cosa che assolutamente non esiste però l'ora ha avuto un ordine soprattutto da me poi secondo me hanno visto che non c'era nulla basta chiuso il discorso però ti dico che hanno fatto ciò e me lo hanno anche detto loro me lo hanno detto loro che hanno usato la tecnologia che hanno loro carabinieri e ti trovano e ti trovano ovunque tu vai ma certo ma perché ci hanno dato il telefono ma ci hanno dato per questo ma che credete esattamente perché ci hanno dato qui si chiama easy pass quello che usi nella macchina perché lo lì è la stessa cosa la stessa cosa della stessa maniera questo qui sapete chi me lo disse dieci anni fa quell'amico massone che conobbi a New York di cui ho già parlato mi fece mi fece sai perché ci hanno dato questo qui ce l'hanno messo sulla macchina perché così sanno esattamente dove andiamo io ci avevo anche pensato all'epoca era già infatti loro hanno cominciato da questo per andare ancora più avanti perché non si fermano qui al telefonino attenzione vogliono di più e se non li fermiamo questi ci arrivano anche a distruggirci la vita sì però bisogna intendersi su cosa fare per ostacolarli in maniera bravo responsabile e diciamo anche civile no perché se no poi si si rischia insomma no si rischia in effetti in effetti il problema della sovranità mai come in questi ultimi tempi è di un'attualità incredibile perché molti ne parlano molti ma nessuno fa un'azione concreta per questo cioè salvo qualche isolato che però rimane unico perché in effetti ci sarebbe veramente da da ma ma proprio da da ribellarsi a queste cose sì ora a margine di quello che dicevamo se gli amici non mi vogliono contattare tramite whatsapp io sono anche su telegram sono anche su telegram quindi mi potete contattare via telegram va bene lo stesso c'è problema va bene se non ci sono domande particolari ci fermiamo qua facciamo un aggiornamento magari veloce sabato sì esattamente lo facciamo sicuro io farò sarò su moris sun di nuovo il 26 sì per chi è interessato parlerò probabilmente anche di queste cose qui di nuovo e certamente certamente bene io ti ringrazio massimo è stato veramente un bel condensato di cose e quindi adesso la gente che vuole ti contatterà e niente quindi dobbiamo soprattutto come detto adesso reagire a chi ci vuole controllare fin dentro oltre i limiti consentiti perché in questo modo ripeto non si può violare la libertà di duale è la privacy della gente nel modo selvaggio che sta facendo tutto qua quindi speriamo bene io ti ringrazio ti saluto e adesso metto subito il video in onda e cancellerò quell'altro che purtroppo non ha avuto bene l'altro ecco ricordati ricordati di selezionare i new west ti ricordi quando fai tutta la procedura ricordati ti ho mandato quella nota così almeno quando fanno i commenti il sistema li ordina per data capito new west devi selezionare ah ho capito ne parliamo dopo via ne parliamo capimai dopo grazie allora saluta a tutti saluta a tutti buona settimana buona settimana